. Sofia Vergara, la colombiana caliente lancia una linea di intimo sexy Sofia Vergara è una bellezza latina senza rivali, i suoi 45 anni non sono nientaltro che un gioiello che porta con orgoglio, e il suo corpo è ancora esplosivo come quello di una tenager . Sofia è sexy, provocante, spiritosa, intelligente e soprattutto ha un acuto senso del business. Negli ultimi 12 mesi ha incassato 42 milioni di dollari, quasi doppiando la seconda classificata Kalei Cuoco. E non si è ancora fermata. Sofia Vergara, la sua linea di intimo happy è quello che stavamo aspettando. Sogniamo un intimo provocante, accattivante, raffinato e al tempo stesso comodissimo. Sofia Vergara lo ha creato con le sue sapienti manine, e lo ha sperimentato per noi con il suo corpo esplosivo da colombiana caliente. . Poche ore fa, l'attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto davvero sexy in cui fa sfoggio di un paio di slip neri semplici. , ma di grande effetto, e una maglietta cropped con la scritta Empowered Bio, che è il concept della linea. Una serie di capi d'intimo capaci di mettere in evidenza i nostri punti di forza, e far emergere la nostra sensualità e non solo la visione creativa di chi l'ha creato. . Ebby è una favolosa marca di intimo senza cuciture, comoda e sempre perfetta dotata di una tecnologia che mantiene lo slip sempre al suo posto anche durante i movimenti più elaborati. . 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